I recenti dati della Banca d'Italia evidenziano l'incertezza che caratterizza l'economia e la crescita della Puglia e con essa di Taranto e di Brindisi, città accomunate da bellezze naturali e opportunità produttive, caratteristiche quest'ultime che pur hanno reso strategiche le due realtà nel contesto nazionale ed europeo. Tra queste opportunità figurano a Taranto lo stabilimento siderurgico tra i più grandi d'Europa e a Brindisi la centrale elettrica più grande del nostro paese, risultato essenziale per la stabilità del sistema elettrico nazionale. La storia dell'ex Silva oggi a Ciaieri d'Italia, commenta il segretario generale CISL Taranto Brindisi Gianfranco Solazzo, continua a caratterizzarsi come questione produttiva e occupazionale che genera diseconomie, lavoro precario, insicurezza sul lavoro, alterazione ambientale, relazioni sindacali incerte e conflittuali, tensioni nella comunità ionica. Analogo destino, prosegue Solazzo, rischia di replicarsi a Brindisi con il processo di decarbonizzazione della centrale elettrica Federico II, sul quale giorni fa si è tenuto il comitato di coordinamento istituito con emendamento a firma dagli onorevoli Dattis e Battilocchio per le centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia. Tale comitato deve confermarsi a nostro avviso sede in cui valutare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali e occupazionali dell'intera area industriale del territorio, coinvolgendo non solo Enel Bensì tutti gli altri player presenti sul territorio, compresi quelli che prevedono investimenti all'interno del porto e del retroporto. Per questo, come CIS il più folto, abbiamo chiesto un tavolo di sviluppo per conoscere quali scelte di politica industriale intendono compiere i grandi protagonisti che per decenni hanno soffruito qui di mano d'opera diretta e indiretta. Chiediamo pertanto, conclude Gianfranco Solazzo, chiarezza sull'imminente piano industriale di Enel e sulle concrete ricadute per Brindisi, auspicando che esso sia compatibile con i pesanti problemi occupazionali che già si affacciano nell'appalto e nell'indotto di quella realtà. Oltretutto, spicheremmo una diversa impostazione programmatica in merito al phase-out dal carbone per rispondere meglio a una strategia energetica nazionale già messa fortemente alla prova dopo l'invasione dell'Ucraina e per i noti problemi di nostra dipendenza dal gas spostatasi dalla Russia ad altri paesi a forte instabilità politica.